Allora, innanzitutto vi ringrazio per la presenza, anche numerosa devo dire, visto anche il giorno di festa e ne approfitto proprio per augurarvi a tutti voi un buon 25 aprile, come tutte sapete la festa forse più importante d'Italia che la festa della liberazione. Io vi chiedo scusa se leggerò il mio intervento, resto seduto, questo perché ormai abbiamo abbondantemente oltrepassato il tempo che ci eravamo dati e quindi per velocizzare andrò a leggere l'intervento. A distanza di due anni, lo stesso giorno e all'incirca alla stessa ora, ci ritroviamo nello stesso luogo. Questa volta non per presentare la candidatura a sindaco di Fernanda Gigliotti, ma per iniziare una nuova avventura, per iniziare una nuova campagna elettorale con il candidato sindaco Fernanda Gigliotti e con tutti coloro che si vogliono impegnare a continuare quella rivoluzione gentile che abbiamo iniziato circa due anni fa. A due anni di distanza gli scenari politici sono totalmente cambiati, sono state due anni di intenso lavoro. L'azione politica del gruppo, il paese che vogliamo, unitariamente all'azione amministrativa portata avanti con tenagio e capabilità, in primo luogo da Fernanda e poi da Gianluca, Federico e Vittorio, hanno portato ad una trasformazione radicale della politica ed iniziato un percorso che ci porterà ad un cambiamento del modo di amministrare la cosa pubblica. Vi ricordate due anni fa, proprio in questa sede, abbiamo parlato di pacificazione del paese, abbiamo detto più volte basta divisione, basta insulti, rispetto per i cittadini e per le persone, facciamo massa critica per risolvere i problemi dell'agittadinanza. A tutto questo la risposta è stata una campagna di denigrazione politica e personale, nei confronti del sindaco, dei consiglieri e di alcuni componenti del gruppo politico il paese che vogliamo. Dalla campagna condotta talvolta con profili anonimi, che poi tant'anonimi non sono, talvolta a firma di gruppi politici hanno creato un clima di odio, di paura portando ad un lontanamento dei cittadini verso la politica. Noi siamo gli unici che abbiamo continuato ad avere un atteggiamento rispettoso e corretto verso i nostri avversari, non abbiamo offeso nessuno ed abbiamo cercato sempre di tenere alto il livello del confronto politico. A distanza di due anni noto che alcuni altri gruppi politici, in particolar modo Unione Popolare Nocerese, parla di pacificazione. Ho letto un posto dove si chiede alle altre forze politiche di fare massa critica per risolvere i problemi del paese. Io traduco questa cosa uniti tutti contro Fernanda e contro il paese che vogliamo. Ma di queste cose, ma di queste cose comunque le dicevamo due anni fa e nessuno ci ha ascoltato. Quindi vuol dire che il nostro modo di fare e di pensare era giusto e adesso viene entramente copiato dai nostri avversari politici. Ma se tutto ciò è confermato nei fatti e non soltanto un tentativo di recuperare qualche consenso elettorale, allora siamo orgogliosi e felici di aver davvero cambiato il modo di fare politiche nel nostro comune. Una politica che si basa sul rispetto dell'avversario, che si basa in primo luogo sul rispetto dei cittadini, indipendentemente dall'appartenenza a questo o a quell'altro gruppo politico. Una politica che svolge una funzione di volontariato ed è al servizio della collettività e non viene vista come ambizione di crescita personale. Se davvero credete nel cambiamento, dimostratelo in questa campagna elettorale. Dimostratelo nei fatti. Basta con gli insulti. Confrontiamoci sui programmi. Confrontiamoci sulla capacità di mettere in campo idee progettuali innovative per lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro Paese. Se invece volete continuare sulla vostra strada, fatelo pure. Noi andremo avanti sempre con maggiore convinzione, ovvero continuando con la rivoluzione gentile che abbiamo iniziato e che vogliamo portare a termine. L'azione amministrativa di questi due anni, portata avanti con determinazione e costanza dal Sindaco e dai consiglieri di maggioranza, ha raggiunto obiettivi importanti che forse non abbiamo saputo valorizzare nel modo giusto. Voglio soltanto ricordare che Fernanda è stata letta il 6 giugno e dopo alcune settimane è stata risenata e ripulita la spiaggia delle macerie che erano rimaste dalla distruzione del lungomare, rendendola balneabile, dando la possibilità alle attività commerciali di ripartire. È stata abbattuta l'elecomostro a passo bagne, risenando di fatto un tratto di costa. Si è dato in inizia la raccolta differenziata evitando il cumulo della spazzatura lungo le strade come accadeva negli anni passati. È stato efficientato il depuratore e questo ha consentito di avere un mare più pulito, quella scie di sporcizia che puntualmente tutte le mattine attraversava il nostro mare l'estate scorsa si è vista poche volte e questo, consentitemi di dirlo, è un enorme risultato raggiunto. Fernanda con determinazione si è impegnato per dotare del comune di un bilancio autonomo nonostante il dissesto. Ha fatto recuperare ai dipendenti comunali le mensalità arretrate, se non erano 5 o 6, e ha regolarmente pagati nel corso di questi due anni di amministrazione. Non voglio farla lunga, anche perché Fernanda avrà modo di fare un discorso dettagliato sulle attività fatte. Fernanda con Federica, Vittorio e Gianluca hanno cercato in tutti i modi di cambiare il modo di amministrare, basato sulla correttezza, sulla trasparenza e sull'interrezza della collettività. Tutto questo non è stato condiviso dai nostri alleati, mi riferisco a Rino Rocca, Vincenzo Macchione, Rossella Mastroianni, Franco Pontiere ed Emanuele Mancini, che hanno sancito unitariamente ai consiglieri di minoranza l'interruzione della consigliatura. Io non riesco a dare una spiegazione sulle vere regioni che hanno portato a una decisione così importante, con ricadute grave sulla comunità che hanno cerese, fuori di qualsiasi logica politica, ma la cosa più logica è stata quella di dimettersi con alcuni consiglieri che avevano determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale quando Rino era sindaco. Di fatto questa decisione presa dai consiglieri del gruppo Ripartiamo ha tradito anche i sistontori politici dello stesso gruppo, che insieme a noi e con grande fatica avevamo costruito un'alleanza finalizzata alla risoluzione dei problemi della nostra collettività. Noi non siamo indignati con i sistontori di Ripartiamo, né tantomeno con quelli di Unione Popolare Nocerese, che hanno fatto scelte diverse rispetto a noi, che non condividiamo ma rispettiamo, ma siamo indignati con il gruppo dirigente di Ripartiamo e di Unione Popolare Nocerese, che invece di preoccuparsi del bene comune guardano esclusivamente agli interessi e alle ambizioni politiche e personali. Io invito tutti a fare una riflessione seria su quanto accaduto, sulle cause e sugli interessi promotori che hanno portato allo scioglimento del Consiglio Comunale, però vi è sorto anche ad andare avanti e a condividere con noi strategie e progetti per portare Nocera al centro del comprensorio Lamatino. Noi due anni fa abbiamo condotto una campagna elettorale seria, gioiosa e con la consapevolezza e la gravità della crisi economica che attraversava il nostro comune. Oggi conosciamo bene le criticità e le potenzialità del nostro comune e in base a queste conoscenze durante questa campagna elettorale costruiremo insieme un programma amministrativo che si può realizzare, perché sappiamo dover reperire le risorse economiche necessarie per mettere in atto uno sviluppo economico, sociale e culturale. E tutto sarà fatto con trasparenza, continuando quella rivoluzione gentile che abbiamo iniziato e che si è interrotta non per causa nostra. Di fatto abbiamo cambiato il modo di fare politiche e adesso il nostro obiettivo è quello di cambiare Nocera. Vi ringrazio per l'attenzione e do la parola a Luana, una ragazza giovane, determinata, coraggiosa ed estremamente intelligente, che noi siamo fieri e di averla accolta nel nostro gruppo. Anzitutto buongiorno e buona festa della liberazione a tutti voi, anche io leggerò la prima volta. Benvenuti a questa conferenza stampa, la prima di una lunga serie alla quale si potrebbe dare il titolo di Il Paese che vogliamo, oggi come allora. Credo che molti di voi qui presenti mi conoscono bene, ma è altresì doveroso presentarmi a coloro che non sanno chi sono. Mi chiamo Luana Trunzo, ho 30 anni e vivo a Nocera Terinese. Premetto che la mia inintroduzione, una parentesi, i punti salienti e l'ordine del giorno verranno dettagliatamente illustrati dai miei successivi relatori, ai quali va il mio caloroso ed affettuoso saluto. Detto ciò, spendo solo poche righe sulla mia persona. Da anni impegnata in attività a carattere sociale, assidua la mia presenza in parrocchia, ove ricopro il ruolo di catechista prima e di responsabile del coro dei bambini poi. Uno stile di vita che mi permette di stare a stretto contatto con la gente, con i ragazzi, i bambini e le loro famiglie. Mi deputo una ragazza iperattiva, che dice sempre quello che pensa, ma spesso poco riflessiva, nel senso che non riesco a contare fino a dieci, prima che il mio pensiero diventi pubblico. Per questo motivo, spesso nell'occhio del ciclone, poiché il trasferire il mio pensiero sui social network va in conflitto con il ruolo che ricopro nella comunità, come se una persona impegnata nel sociale non possa esprimere il proprio pensiero. Credo che le due cose possano andare d'accordo, soprattutto quando si ha buonsenso, rispetto ed educazione, e a me questi valori mi sono stati inculcati sin da piccola dalla mia famiglia. Ma soprattutto so essere luana, essere umano in primis, cittadina nocerese, catechista e da poco membro di questo meraviglioso gruppo, con la libertà di pensiero. Impegnata quindi e proiettata sempre verso il bene, ed è proprio il bene per il paese in cui vivo, che mi ha spinto ad affacciarmi verso una sana realtà politica nocerese, qual è il paese che vogliamo. Gruppo che prima di politico e familiare, composto da bella gente, padri e madri di famiglia, e anche da tante fresche e giovani menti, le quali in sinergia, sintonia e armonia hanno lavorato per il bene del paese e se il 10 giugno darete la possibilità, riprenderanno da dove si erano fermati. Non è un caso che io non parli in prima persona, poiché sin da subito smentisco una mia possibile candidatura, a causa di uno spaccato familiare di non poco conto e questa volta non voglio essere io la causa. Ma oggi, come due anni fa, sosterrò questo gruppo, perché credo in ogni singolo membro, credo nei progetti realizzati e in quelli che insieme realizzeremo, senza troppe promesse, se non quelle di godere un giorno dei frutti di un sano, onesto e pulito programma politico, targato il paese che vogliamo, riprendendo proprio da dove ci siamo fermati. A coloro i quali hanno deciso di abbandonare la nave, sostenendo vi fossero inciuci, va tutta la mia solidarietà per una scelta non facile da prendere, ma non posso comprenderli. Avevamo finalmente un sindaco donna, trasparente come l'acqua, giusta ed equa con tutti, impegnata a rispettare e a far rispettare le regole in un comune con notevoli difficoltà economiche. E loro che fanno, la fanno scappare. Gli inciuci vanno dimostrati, ed io al momento di dimostrabile vedo l'approvazione del bilancio, è per la prima volta dopo vent'anni, e scusate se è poco. Detto questo, anche se vorrei parlare a lungo, non voglio togliere tempo prezioso al candidato al sindaco Fernando Gigliotti, alla quale cedo la parola, ringraziandovi per l'attenzione. Se la sentite cantare, vi incanterete. Mi hai commossa. Grazie. Grazie anche di aver chiarito la tua presenza e il modo come intendi essere presente, già come lo sei stata negli ultimi due anni. Io ringrazio tutti voi, ringrazio ovviamente la stampa presente, Liberi TV, la Gazzetta del Sud, il Corriere della Calabria, l'altro Corriere TV. Ringrazio tutta la cittadinanza che è voluta essere ancora una volta presente alle nostre iniziative. Ringrazio l'Hotel Nocera perché quest'anno, come due anni fa, ci ha dato l'opportunità di iniziare il nostro cammino elettorale. Due anni fa eravamo qui nello stesso giorno, allo stessa ora, con un tempo un po' inclemente, diciamo che pioveva. Oggi invece è una bella giornata di sole e credo che è importante, non solo per un Paese come Nocera che ama i riti, ripercorrere le strade, soprattutto se sono le strade giuste, se sono le strade della serietà, della sincerità, della correttezza. Oggi è il 25 aprile per rispettare le opinioni di tutti noi perché noi siamo un popolo libero e che vuole restare tale senza prestarmi a nessun tipo di valutazione politica. Leggo due righe di Ignazio Silone e la dedico a tutti noi. La libertà è la possibilità di dubitare, di sbagliare, di cercare, di sperimentare, di dire di no a una qualsiasi autorità letteraria, artistica, filosofica, religiosa, sociale e anche politica. Dire di no è un diritto, la libertà è anche dire di no e io vi auguro buona libertà a tutti. Mi perdonerete se non mi interterrò sui 19 mesi che ho fatto il Sindaco. Ne ho già parlato in altre situazioni, in altri contesti, anche abbastanza sofferti. Esistono qui due depian riepilogativi di una parte, riteniamo la più importante dell'attività amministrativa svolta che alla fine dell'incontro potete sicuramente prendere, molti di voi ce l'hanno già, ma è bene che sia un documento perché noi facciamo parlare le carte, le chiacchiere stanno a zero, sono le carte che ci danno ragione. Tutto il resto, se in ciuccio c'è stato, lo hanno dimostrato chi ha posto fine anticipatamente alla nostra esperienza, coloro i quali si sono accordati soltanto per fare fuori noi e si stanno accordando in una, due o tre liste solo per continuare a fare la guerra a noi. Noi siamo il nemico da abbattere per un semplice motivo, perché abbiamo deciso di portare avanti con coerenza la promessa elettorale, cambiare davvero nocera, cambiare nocera e difendere il bene comune e scegliere ogni azione amministrativa in funzione del bene comune. Laddove abbiamo detto troppi no, la mia libertà, la vostra libertà di dire di no a chi questo comune negli anni passati, nei vent'anni passati lo ha usato, ci è costato la caduta anticipata. Questa è la mia versione dei fatti, questa è la mia risposta, questa è l'unica cosa certa che c'è e questa e me nella giustizia italiana che va avanti per non lustri ma per decenni è cronaca di oggi, è cronaca di ieri, e cronaca di qualche settimana fa con provvedimenti del Tribunale della Mezzaterme di ieri mattina e provvedimenti della Corte dei Conti nazionale di qualche settimana fa. Se qualcuno deve restituire dei soldi al comune di Nocera, alla collettività nocerese perché ha provocato un danno per un solo appalto di 250 mila Euro, in vent'anni che di appalto ce ne saranno stati centinaia, capirete perché siamo arrivati a 43 milioni di Euro di dissesto e vi specifico e poi risponderò alle vostre domande se lo riterete opportuno, che sono 21 milioni di Euro di debiti non riconosciuti e cioè assunti senza impegno spesa, 7 milioni di Euro di debito da contenzioso, cioè da cause in corso, 15 milioni di Euro di debiti di riconosciuti mutualizzati scadenti al 2043. Chi dice che un mutuo non è un debito, io che di mestiere faccio l'avvocato posso anche sbagliarmi, un mutuo è un debito che hai deciso di pagare, gli altri sono debiti che ancora non hai deciso di pagare. Un totale di 21 più 7 più 15, fatelo voi, per me arriva a 43 milioni di Euro di debito. Avere approvato un bilancio riequilibrato non significa avere risolto il debito che altri hanno fatto, sarebbe troppo facile schioccare le dita e pagare 20 anni di disastro amministrativo, in cui alcuni si sono arricchiti, la comunità si è impoverita e lo vediamo ed è sotto gli occhi di tutti. Questi soldi che noi dobbiamo pagare come cittadinanza saranno pagati nella misura in cui l'Oslo, cioè l'organismo straordinario di liquidazione, li riconoscerà come dovuti. Se invece non li riconoscerà come dovuti perché non sono stati giustamente impegnati e realizzati, chi li ha autorizzati quei lavori li dovrà pagare. Sindaco, vice sindaco, assessore o responsabile dei vari uffici, non saranno i cittadini a dover pagare debiti illegittimamente contratti. Certo, ci sono le imprese che hanno lavorato per il Comune di Nocera e che piuttosto che essere pagati attraverso i mutui del DL35, cioè la possibilità che ha dato il governo Renzi di pagare le imprese entro il 30 settembre del 2015, è stato utilizzato non per pagare le imprese e magari fare anche una trattativa, uno sconto, un pagamento a salda stralcio, è stato utilizzato per pagare i contributi ai dipendenti comunali, a pagare Equitalia, a pagare l'acqua. A noi non ci hanno mandato i ruoli del 2012, 10, 11, 13, 14 e 15, però noi abbiamo dovuto pagare l'acqua e che come l'abbiamo pagata? Con gli incassi? No, i nostri predecessori hanno fatto mutui per pagare l'acqua, hanno fatto mutui per pagare la corrente elettrica, hanno fatto mutui per pagare la spesa corrente del Comune di Nocera Terinese, i mutui a casa mia si fanno per comprare casa, non per pagare le bollette e il mio Paese, la mia casa è Nocera e Nocera doveva contrarre i mutui per pagare investimenti in favore della collettività, non spesa corrente che doveva essere normalmente e ordinariamente pagata. Avere approvato un bilancio riequilibrato significa avere tolto tutte le spese e tutti i residui falsamente attestati in bilancio. Per approvare un bilancio abbiamo dovuto ridurlo all'osso e lo abbiamo ridotto all'osso, abbiamo avuto l'approvazione di un bilancio stabilmente riequilibrato in un anno di amministrazione comunale, siamo stati eletti il 6 giugno 2016, il bilancio approvato è del 6 giugno 2017. La comunicazione di approvazione ci è arrivata esattamente nell'anno esatto nel nostro compleanno e da lì si è sciolta la pace, perché da lì col bilancio riequilibrato potevamo fare il mutuo per pagare i debiti del dissesto, ma anche per fare attività di investimento nel territorio e avevamo trovato nel bilancio riequilibrato la possibilità di investire un'inezia se volete, ma in un paese con 43 milioni di euro di debito bisogna prendere tutto, di spendere 800 mila euro, 500 con una variazione di bilancio che abbiamo anche fatto e che serviva per realizzare il parcheggio il rione Vivieri Canarella con l'opportunità di ristrutturare tutta quella parte di centro storico, la riqualificazione di piazza Giovanni Paolo II in Marina, che tutto è meno che una piazza in questo momento e per ultimare l'urbanizzazione di Pianeruzzo, che da 20 anni doveva essere la Beverly Si di Nocera e con tutto il rispetto per Scordovillo, sembra Scordovillo 2 la vendetta, perché non è mai stato concluso, non è mai stato finito, perché vivere nell'incompiuto in questo paese sembra la regola e non l'eccezione. E questi erano interventi che avremmo coperto con questi 500 mila euro di bilancio, più ci sono 300 mila euro. Io nella rendicontazione di tutte le voci singole per singole del bilancio abbiamo scoperto che il nostro comune paga adesso e da 20 anni mutui semestrali anche di 300 mila euro che non abbiamo mai speso. Abbiamo fatto il campetto di calcio a Campodorato, residuano 10 mila euro, ma erano forse troppo pochi per essere riattivati. Bene, per ogni mutuo che hanno contratto ci sono residui tali che arriviamo ad altri 300 mila euro che possiamo utilizzare e sono 500 più 300, 800. In più abbiamo avuto e è stato confermato dalla Regione Calabria i 320 mila euro per l'abbattimento del capannone e la bonifica del litorale nord di Nocera Terinese e i 256 mila euro per la ristrutturazione, l'efficientamento del depuratore consortile. Questo per dire che noi debiti fuori del bilancio non ne abbiamo fatti. Punto, stop, da capo. Scaramanticamente dico come abbiamo iniziato qua il 25 aprile di due anni fa, scaramanticamente ripeto il motto della vecchia campagna elettorale. Agatta la dispensa come si pensa? Noi i debiti non li abbiamo fatti, li stiamo pagando. E allora, fatta questa breve messa sul passato, salvo rispondere alle vostre domande, io dopo 19 mesi di crocefissione vorrei parlare di futuro, vorrei parlare delle cose che mi piace fare di più, lavorare e fare cose belle. E che cosa possiamo fare noi oggi che abbiamo realizzato i punti fondamentali del nostro programma elettorale in 19 mesi, quello che dovevamo realizzare in 5 anni lo abbiamo per i tre quarti realizzato in 19 mesi, adesso possiamo fare altro e che cosa possiamo fare? Eravamo in corso, oltre che per fare gli investimenti di cui vi ho detto, di chiedere al Ministro degli Interni e quindi al Presidente della Repubblica, per le ragioni che vi dirò, ed è questo il primo punto all'ordine del giorno della nostra campagna elettorale, il riconoscimento della qualifica di città al nostro Paese. Il nostro Paese, così come Serra San Bruno, così come Sersale, così come tanti altri comuni, può avere ed ha i requisiti di cui all'articolo 18 del Tuel per diventare città, che significa un titolo onorifico soltanto? No, significa tante altre cose. Questa è una proposta che io con il mio gruppo politico, con il Paese che vogliamo, ci freggiamo di avere già, ha discusso con noi in comune, anche con la segretaria comunale, avevamo già preparato, avevamo convocato anche la Giunta per fare questa cosa, ma questa è un'altra storia. Che cosa significa riconoscimento di città? Significa che lo Stato, noi da un punto di vista demografico siamo meno di 5.000 abitanti, quindi viviamo un'economia povera, poverissima e anche di possibilità amministrative risicate. Se però c'è il riconoscimento di città che deve essere riconosciuta a Nocera, perché ha una superficie di 48 km2, perché ha un mare, ha una marina, ha una collina, ha un centro storico, ha una montagna, ha un'alta montagna, ha un'entroterra straordinariamente ricco, ha ed è sede di conservatorio. Questo nostro Paese ha la fortuna di trovarsi un conservatorio che da qui a qualche mese oramai la procedura di statizzazione è stata avviata, sarà statale, sarà un conservatorio statale. Ci sono 800 studenti che gravitano nel nostro comprensorio, ci sono oltre 100 insegnanti studenti che gravitano nel nostro comprensorio, ci saranno oltre 300 studenti di Erasmus se saremo in grado di accoglierli. E questo patrimonio edilizio nostro, privato, lo vogliamo usare tutto l'anno o solo 15 giorni al mese di agosto. Quindi il riconoscimento di città, perché? Perché noi siamo un Paese ricco, come ho detto, ma anche perché abbiamo una storia ricca. Noi siamo, e mi dispiace doverlo ricordare anche oggi, siamo il Paese che ha dato i Natali a Ernesto Pontieri, il magnifico rettore dell'Università Federico II di Napoli. Ma noi qualcosa, come comunità, Ernesto Pontieri, la vogliamo fare o no? E noi nel nostro programma avevamo detto che dovevamo, il convento dei Capuccini, una volta ristrutturato, doveva diventare sede, sì di museo, ma anche di un centro studi internazionale di storia, di filosofia, alla memoria di Pontieri, di Ventura, di Acerbo. La gente, il genus logico, lo spirito del nostro Paese è questo, insieme ai vattienti, insieme alla soppressata, ma anche insieme a tutta un'altra storia, che è fatta anche di territorio, di cultura, di economia, che è fatto anche di depuratore. Perché un comune di 4.700 abitanti deve avere il peso economico e la responsabilità di gestire un depuratore per 100.000 abitanti e non avere la qualifica e i diritti di una città di 100.000 abitanti. Ve lo siete chiesto perché noi sì e ce lo dobbiamo chiedere insieme. Anche il depuratore è il consortile, il fatto che esista in questo territorio, che ha devastato il nostro territorio, che ha devastato le nostre finanze, noi per questo dobbiamo avere una contropartita. Quando voi fate passare un vicino di casa nel vostro terreno e si costituisce una servitù, qualche risarcimento ve lo devono dare. Bene, anche noi dobbiamo essere pagati dal comune di Amantea, dal comune di Belmonte per questo servizio. Perché non è soltanto un fatto di costo di depurazione, è anche un fatto di avere appesantito il nostro territorio di una gestione faticosissima. Non è il sindaco di Amantea, non è il sindaco di Belmonte che dalla mattina alla sera va alla Regione Calabria a discutere del centesimo in più e in meno per avere i soldi per efficientare il nostro depuratore. Poi tutti vogliamo il mare pulito, ok, anch'io. Però io so che il mare pulito noi lo garantiamo, gli altri non lo so. Noi lo abbiamo garantito, gli altri prima di noi non lo so. E so anche che noi abbiamo chiesto ad Amantea la restituzione di oltre 4 milioni di Euro di energia elettrica che ci dovevano dare dal 2010 al 2015 e che nessuno ha mai chiesto. Cioè noi abbiamo un debito di un dissesto enorme e ci permettiamo il lusso di non chiedere al comune di Amantea non ho un risarcimento danni, di pagarci le bollette sue, perché noi paghiamo le bollette del comune di Amantea a Nocera, perché noi siamo una comunità di 4.700 abitanti e Amantea è di oltre 15.000, quindi i costi del depuratore per il 65% gravano sul bilancio del comune di Amantea. Dovrebbero gravare, ma nessuno gliel'ha chiesti, noi sì. E forse per questo i comuni vicini non ci amano molto. Quindi primo punto, Nocera come città. Il riconoscimento di Nocera come città è una città ai cittadini. I cittadini di Nocera che sono stati maltrattati, massacrati, salvo poi direi che è colpa mia, dalle conseguenze di una gestione fallimentare degli ultimi 20 anni. Gli altri hanno fatto i debiti. Noi abbiamo elaborato un regolamento per il baratto fiscale, per consentire ai cittadini che non sono in grado di far fronte al pagamento delle bollette che pur sono state aumentate, perché per legge le abbiamo dovute aumentare, attraverso lo scambio con il lavoro. Cioè le famiglie che non possono pagare devono avere il diritto, non il piacere dell'assessore, del vicesindaco, del sindaco di non pagare le bollette, devono avere il diritto sacrosanto di poter barattare il proprio lavoro in cambio di una bolletta. Troppo spesso in questo Paese chi non poteva pagare è stato tenuto all'accia, ok compa, non ti pagare la bolletta, poi mi do il voto. No, tu non paghi la bolletta perché mi puoi fare una giornata di lavoro, poi voti chi vuoi. Non si va avanti col voto di scambio, in questo modo giocando sulla pelle dei cittadini noceresi. Come si è giocato? Noi vogliamo parlare di baratto fiscale, noi vogliamo parlare di detrazioni fiscali e di estendere quello che già nel centro storico è una realtà anche in Marina, e cioè chi realizza attività di ristrutturazione, di riqualificazione di immobili, di patrimonio immobiliare a Nocera Marina e lo destina a attività di B&B, attività di co-housing, ad accoglienza di persone anziane che si trasferiscano, che si possono trasferire a vivere qui, come già sta accadendo in molti residenze, lo si sta facendo a titolo anche privato, di avere delle detrazioni fiscali. Così come detrazioni fiscali per chi destina gli immobili posti a piano terra di questi fabbricati sulle vie principali, che sono Viale Stazione e Viale Marcello De Luca di Rizzano, ad attività commerciali. Quindi le detrazioni fiscali in favore di cittadini anche di Nocera Marina per la realizzazione di ristrutturazioni, di riqualificazioni, di patrimonio edificatorio e di apertura di attività commerciale. Poi il lavoro. Il lavoro per i cittadini. Voi credete veramente ancora al posto pubblico? Chi ci crede è un sognatore. Il pubblico, il comune deve facilitare con la sua attività le imprese, gli imprenditori che vogliono creare nuovi posti di lavoro e che possono creare nuovi posti di lavoro. E noi avevamo già iniziato e stiamo ancora lavorando per la realizzazione di un progetto di co-housing. Noi abbiamo chiesto i finanziamenti per l'utilizzo delle case confiscate per il co-housing sociale, per il dopo di noi e cioè per quelle famiglie con figli, portatori di handicap, le cui mamme, i cui papà sono venuti per 19 mesi da me a dirmi se muoio io, chi si occupa di mio figlio? Bene. Un comune deve preoccuparsi di queste cose e deve realizzare che cosa? Se non c'è un imprenditore che ci pensa a realizzare una cooperativa di servizio all'interno della quale ci siano infermieri, osso, operatori sociali, inservienti, lo deve fare il comune. Quindi le cooperative sociali dei giovani noceresi, in favore dei giovani noceresi per la realizzazione e dare questi servizi alle persone. Ma questo anche per la gestione del patrimonio. Ma me lo chiedete perché il patrimonio boschivo nocerese deve essere da più di 10 anni, non c'è un progetto di gestione forestale. Perché il bosco di nocera non può essere una risorsa economica oltre che per il comune, anche per una cooperativa sociale dei giovani, che se lo prendono in fitto, lo manutengono, lo puliscono, lo tagliano nella misura in cui si può tagliare e si vendono la legna. Si fa impresa, anche così. E si fa impresa non solo così in montagna, si fa impresa anche così nei parchi e nelle ville comunali. La villa comunale di Nocera Marino, di Nocera Paese, ha un costo per il comune. È già un successo togliere quel costo, anziché guadagnarci. Ma dare a qualcuno e dirgli tu puoi realizzare qui la tua attività commerciale. Mi apri un'attività che non sia la solita rivenditoria, perché il comune deve dare anche degli indirizzi. Se noi gli daremo la solita rivenditoria di birre o di caffè, fai qualcosa che accompagni questo territorio e che lo qualifica all'esterno. Quindi un'economia di genus loci, ma che serva anche a utilizzare il patrimonio comunale in favore della cittadinanza, del singolo cittadino, della cooperativa di giovani in maniera legale. E cioè partecipando a una regolare gara, costituendosi regolarmente. Tanti ragazzi che adesso non sanno che cosa fare, lo potrebbero fare. Sapete quanto quanto paga il comune di Nocera per ogni cane randaggio al rifugio, alla canile di La Mezzia? Oltre 1200 Euro all'anno. Io ho 15 cani, Lucia ne ha altri 10, un'altra amica ne ha altri 10. Cioè se il comune dovesse pagare per tutti questi, e ne ha già 15 il comune di Nocera, sono 15 mila Euro all'anno che paga per 12 cani, che potrebbero essere utilizzati a favore di una cooperativa sociale di giovani. E noi abbiamo già individuato l'area, lì dove all'ex depuratore, c'è un'area dell'ex depuratore che era stata, poi il piccolo è stato tolto e fatto il nuovo, si può realizzare un rifugio, ne abbiamo parlato tante volte con Peppe, un galoppatoio, ma lì abbiamo anche realizzato un'isola ecologica e lì abbiamo recuperato i 71 mila Euro di finanziamenti perduti e entro il 30 di aprile si firmerà la Convenzione per creare un'isola ecologica legale, perché al momento è solo un centro di stoccaggio. Questa è politica, è facilitare la creazione di posti di lavoro. Diffidate da chi vi dice che vi porterà la Luna, perché la Luna starà sempre lì dov'è e non scenderà certamente da noi. Così come il campus universitario nel centro storico, di cui vi dicevo, ma anche il grande progetto dei Casali del Savuto che la sottoscritta ha messo in campo insieme ai comuni che vi dicevo prima e nel quale molti imprenditori inoceresi ci stanno pensando seriamente di investire, che servirà non solo a riqualificare il territorio, a creare dei percorsi naturalistici, dei sentieri religiosi, dei sentieri e delle possibilità di creare anche nuove attività, cioè le guide turistiche, gli istruttori di trekking, gli accompagnatori di trekking. Perché andiamo in Sardegna a fare le escursioni nel sugarroppo come tanti anni fa e abbiamo la guida che ci fa tanto piacere considerarla come uno di noi? Ma quello si è guadagnato 200 euro quel giorno, si deve fare questo, questo è un territorio avvocato per queste cose, dobbiamo cercare di capire che non esiste soltanto l'avvocato, l'ingegnere, il dipendente pubblico, ma che esiste l'operatore turistico nel dettaglio però, non solo quello ingegnere Grandinetti che fitta le stanze, ma i servizi annessi, perché chi va in vacanza altrove non vuole avere soltanto la stanza e il lettino, vuole avere il cavallo per fare una passeggiata a cavallo, vuole avere la bicicletta con la pedalata assistita come noi avevamo pensato di realizzare qui nella piazzetta dove c'è la villa comunale, perché ha bisogno, chi va in giro e paga un po' di soldi per avere una settimana di vacanza, di avere dei servizi e in questi servizi i giovani si devono inserire, creando cooperative sociali. Noi città, cittadini, territorio, sul territorio noi ci abbiamo già lavorato molto e ci lavoreremo anche di più di quanto non abbiamo già fatto, attraverso anche l'impresa, oltre che agricola e forestale di cui vi abbiamo detto come iniziativa, anche di impresa culturale. La nostra città di Nocera deve essere una città che si identifica per le cose che vi ho detto anche prima, non solo perché abbiamo il mare, la montagna e tutto il resto, ma perché abbiamo una storia, abbiamo persone che sono capaci di fare cultura anche con una semplice zampogna, noi abbiamo artisti, artigiani nel nostro paese che abbiamo sottovalutato e trascurato negli anni e magari siamo andati a spendere un sacco di soldi per fare venire il gruppo musicale tal dei tali, io non ho niente contro i gruppi musicali tal dei tali, ci mancherebbe altro, ma guardiamo anche al nostro territorio, guardiamo ai nostri artigiani che sono in grado di fare, di creare attrazione nel nostro centro storico e se parte il centro storico, parte la marina, parte la campagna e quindi la città anche per superare questa eterna divisione tra le campagne, tra le contrade, la marina e Nocera centro storico, finiamola, Nocera è una e si compone di tanti territori differenti, ognuno vocati per fare qualcosa di speciale, la marina per la costa, ma anche per un patrimonio edilizio di accoglienza a forme di turismo che non sia soltanto di 15 giorni all'anno, ma di lungo periodo, ma anche di residenza definitiva, la collina, il la valle del Savuto con le sue risalite, con la possibilità di collegarci direttamente sia al Monte Mancuso, ma sia a Cosenza, noi abbiamo un patrimonio che possiamo utilizzare e vendere in tutto il mondo e la gente verrebbe per questo, certo non ci viene per i lì di ammare soltanto, i lì di ammare noi non siamo competitivi, abbiamo realtà che ci superano, anche da un punto di vista economico, sono più vantaggiosi addirittura andare in Egitto una settimana che venire a Nocera, ma quello che possiamo dare noi al turista, oltre al lettino, quello che c'è dietro, non c'è altrove, ed è su questo che dobbiamo puntare, sulle cose che gli altri non ci possono copiare, caro Peppa, noi ci copiano tutto, pure gli slogan e le cose, ci sono delle cose, l'identità, il nostro spirito territoriale, ma anche il nostro di gruppo che non ci potrà copiare mai nessuno, perché è una cosa raccontata da me, da Peppe e da Luana e quindi dai noceresi, è diversa da quella che vi può raccontare timpo, pallo o di un altro paese, ed è su questo che dobbiamo lavorare, che cosa dobbiamo realizzare noi, oltre alla città, alla difesa dell'individuo, del territorio, dobbiamo far ripartire questo territorio da un punto di vista economico anche per la ripresa edilizia, e qui un impegno assunto, già in parte realizzato, già scadenzato, perché il 28 febbraio era il punto di volta per quanto riguarda le lottizzazioni in marina, che o i privati consorziati decidevano come fare per la loro gestione della lottizzazione, oppure il comune dal 1 marzo si sarebbe imposto per rendere possibile l'esercizio di un diritto, quello di utilizzare la proprietà. A Nocera ci sono cittadini che da 20 anni pagano imposte comunali per terreni edificatori sui quali nessuno mai ha lasciato una concessione edilizia e ne può rilanciarla. Noi dal 1 marzo, se non fossimo caduti, ma dall'11 giugno, se ci darete il consenso per essere di nuovo alla guida del Paese a continuare il nostro progetto amministrativo, garantiremo a tutti legalmente l'opportunità di costruire come hanno costruito tutti, là dove ci sono zone già edificatorie, dove sono già destinate all'edificazione. Se è necessario faremo e assumeremo le iniziative utili per, anche da un punto di vista formale, per correggere errori eventualmente fatti da chi prima di noi ha gestito, non certo noi. Le cose fatte sono tanti, i lavori da fare sono tanti, qui vedete, e vi prego, perché questo è l'altro punto fondamentale di questione, di discussione, lungomare sì, lungomare no. Chi ha qualche anno in più dei ventenni, chi ha come me 52 anni, si ricorda che il bagno lo facevamo qui sotto il Maris, si ricorda che magari all'espresso c'è stata l'erosione, che l'aesso era completamente nell'acqua, si ricorda che altrove c'era l'acqua in casa, cioè noi abbiamo una linea di costa così mobile per la sua natura che non è possibile, non è serio, non è economicamente produttivo, non è a vantaggio della collettività, ma solo di chi costruisce, realizzare un lungomare sulla spiaggia. Gli effetti dell'astanti delle mareggiate lo hanno dimostrato. E però in questi anni non è che abbiamo costruito solo un lungomare, abbiamo anche fatto costruire le case sotto il livello del mare. La linea del livello è la linea della SS18, è la linea della ferrovia e noi dobbiamo però, dopo aver autorizzato questi a costruire, noi tutti abbiamo costruito, quell'opera di difesa che voi vedete qui, che può essere il nuovo lungomare di Nocella, ma che è principalmente un'opera di difesa del centro urbano da eventuali nuove mareggiate. Non possiamo costruire un lungomare che sia una passeggiata soltanto laddove c'è necessità di tutelare un patrimonio edificatorio che è stato autorizzato oppure è stato sanato e che oggi è alle prese con cicliche mareggiate e cicliche agliagamenti. Lì, e questa è la nostra proposta, che stiamo lavorando, cioè stavamo lavorando con la Regione, ma che continuiamo a lavorarci perché anche se non siamo al momento al Comune di Nogera, noi ci ritorneremo al Comune di Nogera l'11 giugno. Noi prevediamo due tipi di intervento che non sono risolutivi, si dice tecnicamente sono di mitigazione. Un intervento nel mare per difendere l'erosione costiera, o meglio per mitigare l'erosione costiera, per ridurre la fluttuazione in avanti e indietro del mare, in questo caso di avanzamento del mare, è un'opera che va costruita al di qua dell'attuale posizione dell'anfiteatro. L'anfiteatro sarà a capovolto, se vedete quella striscia rossa, quella è l'idea, l'idea progettuale, è già al lavoro anche lo sviluppo esecutivo di quell'opera, che è diretta a creare principalmente e sostanzialmente la difesa della nostra area urbana e che può essere allo stesso modo del lungomare di Reggio Calabria, di Catanzaro Lido, ma di Nizza, andatevi a vedere le foto, la possibilità di essere una passeggiata. Gli insediamenti produttivi, stabili, case, non se ne dovranno costruire più sulla spiaggia, neanche comunali, devono essere opere rimuovibili. Il resto lo costruiamo e lo realizziamo lungo le due direttrici che ci sono già e che vi ho detto, cioè Viale Stazione e via Marcello De Luca di Lizzano. Nocera, il nostro futuro, il futuro che vogliamo per Nocera era già qui e siamo noi e sarà ancora qui perché saremo noi con una città di Nocera, con un centro storico che diventi campus universitario di Erasmus, di accoglienza degli studenti e di città della musica, della storia, della filosofia, ma anche di percorsi enogastronomici. La nostra montagna con il suo utilizzo imprenditoriale dei boschi, ma vero, non quelli che fittano 13 ettari a 380 Euro all'anno di fitto, quello vero, quello che dà soldi non solo al Comune, ma che realizza reddito per i cittadini. Le nostre contrade che già nei loro nomi hanno una qualifica, hanno una identità, mi riferisco ai nomi così evocativi, Casale, Pantanosa, Milogne, Cavalicchio, Chimento, Spanocchia, Terina, Portavecchia, ognuno di queste contrade ha un'identità, ha uno spirito sul quale noi dobbiamo lavorare e la Marina, per finire, ma come concetto ultimo abbiamo dedicato molto tempo alla Marina, per tutto quello che abbiamo detto, per il patrimonio edilizio, ma per il patrimonio anche naturalistico che c'è e per la capacità di essere sviluppo di impresa e di nuova impresa. Ecco, noi continuiamo a lavorare come abbiamo già fatto in questi mesi, a realizzare pietra su pietra il nostro sogno di vivere in una lucera bella, laboriosa, libera e civile, permettetemi il termine civile, perché è incivile pretendere che gli altri rispettano le regole e in casa propria le regole non si rispettano, le regole valgono per tutti. E poiché abbiamo avuto questo sogno spezzato, così come ho iniziato con Ignazzo Silone, vi voglio leggere un altro, due versi, proprio come un fiore sboccia dopo aver sopportato il rigido freddo invernale, noi questo rigido freddo il 26 gennaio lo abbiamo vissuto nelle nostre carni. Un sogno può avverarsi solo se si è preparati a sopportare i tormenti che ne accompagnano, e sapessevo quanto tormento abbiamo dovuto sopportare noi, e che ne accompagnano la realizzazione a compiere tutti gli sforzi necessari. Noi siamo qui, con la nostra faccia, con le nostre professioni, con le nostre passioni, con la nostra voglia, anche con il nostro carattere, e per fortuna che è un carattere ce lo abbiamo. Chi vuole un amministratore senza carattere non vuole bene al Paese. Ma soprattutto con i nostri sorrisi. Io sono felicissima di appartenere a questo gruppo, di questo gruppo. Ringrazio Federica che ci sta ascoltando da Roma, ringrazio Anna e Eugenio che ci stanno ascoltando da New York, perché nessuno di noi immaginava che avremmo dovuto ricorrere di nuovo a una campagna elettorale. La vita va avanti, la gente si spinge a fare altre cose. E in ultimo, proprio per questo voglio dire ai cittadini noceresi, lo so che molti cittadini, e dobbiamo lavorare con i cittadini per questo, che molti cittadini noceresi non hanno ancora capito che cosa è successo, perché è veramente difficile capire quello che è successo. E sono soprattutto stanchi, perché avevano votato una squadra per governare Nocera, per liberarsi dal passato, per portare avanti il cambiamento. Alla gente di Nocera oggi è faticoso andare a richiedere il voto. Bene, cari noceresi, cari amici, cari giornalisti, ditelo a tutti, noi ci torneremo a chiedere il voto, malgrado noi avremmo voluto continuare ad amministrare e a rispettare il patto elettorale. Saranno altri che dovranno andare e spiegare pubblicamente, con carte alle mani come facciamo noi, le ragioni dello scioglimento anticipato del Comune. Noi ci siamo, io ci sarò e continuerò ad esserci, comunque vadano le cose, perché io amo il mio Paese, io ho investito nel mio Paese, io non ho investito a Cortina, io non ho e non vivo in casa di altri. Noi tutti abbiamo fatto investimenti in questo Paese, ci abbiamo creduto, ci abbiamo fatto famiglie, ci abbiamo costruito case, ci abbiamo realizzato sogni, vogliamo continuare a realizzare sogni e con questo io ringrazio tutti, vi saluto, avremo modo di incontrarci altre volte, chi vuole fare delle domande, giornalisti, cittadini lo può fare, anzi sarei felice se lo facessero, ma soprattutto i cittadini se vogliono dopo questa conferenza aspettare ci sarà anche un aperitivo augurale in questo bar. Ah, l'hanno preparato qui, da questa parte. Grazie a tutti, io penso una cosa, che insieme ce la possiamo fare, non c'era bisogno di essere amata, non c'era una bella donna che è stata trattata malissimo, era una bella donna con una dote incredibilmente ricca, si sono sciupati la femmina, si sono consumati la dote, l'hanno lasciata al palo con tanti figli senza adesso nemmeno essere in grado di restituire il maltolto, perché purtroppo è anche questo, quei soldi, non so se mai ritorneranno nelle casse comunali. Noi ci possiamo ancora permettere il lusso di dirvi, ci metteremo il nostro cuore, ci metteremo la nostra testa, ci metteremo il nostro tempo, lo sottrarremo alle nostre famiglie, il mio nonno preferito continuerà ad avere Cacu appresso, ma saremo ancora qui, l'11 giugno 2018, come il 10 si voterà l'11 giugno, saremo ancora qui, magari la mattina, passeremo come all'alba l'altra volta. Grazie a tutti di essere venuti e buon 25 aprile.